I cittadini italiani vorrebbero solidarizzare con questo popolo che giustamente sta patendo, viene torturato tutti i giorni, quotidianamente vengono uccise, massacrate, picchiate, incarcerate donne, giovani, bambini, uomini e soprattutto c'è una cosa molto grave che è la condanna morte che il Parlamento iraniano ha decretato nei confronti dei 15.000 manifestanti. Significa che queste persone sono condannate all'impicaggione. Io credo che il nostro paese non possa voltarsi dall'altra parte perché rimanere indifferenti e inermi significa essere complici di questo regime e noi come paese non dobbiamo stare con i mullah o con gli ayatollah, noi dobbiamo stare col popolo iraniano. Radicali, il partito radicale, transnazionale, transpartito con una lotta non violenta a cui dà corpo in primis la tesuriera Irene Testa che oggi è il sesto giorno dello sciopero della fame insieme a molti ragazzi iraniani che stanno qui in Italia. A me stesso sto al secondo giorno di sciopero della fame, oggi la battaglia iraniana arriva in Italia perché è una battaglia prima di tutto delle donne che rivendicano la loro libertà e la parità di genere, ma di giovani, numerosissimi giovani, teniamo presente che in Iran a differenza dell'Italia il 75% della popolazione è giovanile e giovani operai ma addirittura al bazar hanno chiuso il bazar via dicendo in segno di lotta come manifestazione contro il regime degli ayatollah.